benvenuti a questa nuova edizione di senior news vediamo i titoli di oggi covid ricciardi serve un lockdown le zone arancioni non basteranno epatite c scoprire di aver contratto il virus è fondamentale per la cura ipoacusia in aumento il numero di italiani che hanno problemi di udito soprattutto fra gli over 80 grey panthers oggi torniamo in cucina per parlare di un ingrediente insolito il topinambur la campagna di vaccinazione degli over 80 in italia non inizierà prima della fine di febbraio della prima settimana di marzo a sottolinearlo valter ricciardi consulente del ministro della salute speranza che auspica un lockdown vero di 3-4 settimane perché le zone arancioni non basteranno bastano ha detto ricciardi per cercare di tenere l'epidemia in una situazione stabile ma non per farla diminuire se insistiamo con questo atteggiamento di dilazione di esitazione e non siamo pronti a testare e a tracciare sarà un lungo stilicidio di mesi sia dal punto di vista sanitario che economico e psicologico l'epatite c è oggi curabile in quasi il 100 per cento dei casi ma è fondamentale arrivare alla diagnosi perché la malattia può non manifestarsi per lungo tempo ma progredire con conseguenze anche gravi fino a cirrosi e tumore del fegato sentiamo l'epatite c non è solo la malattia a trasmissione sessuale non è solo la malattia di chi usa o usato siringhe a scopo ricreazionale l'epatite c è una malattia che tutti possiamo avere contratto in maniera assolutamente inapparente non esiste chi sia al sicuro dal contagio e il test per scoprirlo è un test semplicissimo un banalissimo esame di sangue esistono perfino dei test salivari per adesso vengono utilizzati non c'è non può esserci compiacenza nel non cercare questa infezione ci sono anche probabilmente dei vantaggi accessori a parte la il contenimento della malattia di fegato e a parte la riduzione dell'infettività è ovvio che nessuno vuole regalare questa infezione a nessun altro e questo vale anche per gli anziani ogni tanto sento dire il discorso beh sai l'anziano non è che sia sessualmente gran che attivo certamente non si fa le siringhe di questo o quell'altro scopo ricreazionale bene perfetto però l'anziano è una persona che ha uno o più caregiver che possono infettarsi vive in un ambiente familiare può trasmettere l'infezione e se lo sa di avere l'infezione vive anche male perché può sentirsi colpevolizzato magari non è razionale ma siccome abbiamo lo strumento per risolvere queste razionalità e consentirgli una vita relazionale normale anche lui deve essere curato l'ipoacusia è la perdita parziale del senso dell'udito secondo i dati del census nel nostro paese ne soffre il 12 per cento della popolazione si tratta di 7,3 milioni di italiani in aumento del 4,8 per cento negli ultimi sei anni i casi aumentano con l'aumentare dell'età con un più 12 per cento tra gli over 80 rispetto al 2012 tra gli over 65 secondo l'istituto superiore di sanità il 20 per cento riferisce un deficit dell'udito raggiungendo il 45 per cento tra gli ultra 84 anni l'ipoacusia è però spesso considerata soltanto un segno fisiologico dell'invecchiamento ma se non viene curata in tempo può trasformarsi in un vero e proprio handicap per questo motivo appena si ha la sensazione di sentirci meno e non come spesso invece accade oggi dopo mesi o addirittura anni bisognerebbe sottoporsi a una visita specialistica che permette una diagnosi precisa per valuta valutare un'eventuale terapia e per il nostro appuntamento con grey panthers questa settimana torniamo in cucina per parlare di un ingrediente insolito il topinambur un tubero che assomiglia alla patata un po più bitorzoluto quindi un po più difficile da pelare ma che è molto interessante sia sotto il profilo gastronomico sia per le proprietà salutistiche il topinambur infatti è privo di glutine e quindi come tale è un ottimo ingrediente per la dieta dei celirci allo stesso modo siccome mantiene basso l'assorbimento di colesterolo e di zuccheri presenti nei cibi favorisce la dieta dei diabetici il topinambur può essere utilizzato anche in formula insolita se lo tagliate a fettine sottili e lo lasciate essiccare in forno si trasforma in simpatici chips come potrebbero essere le patatine da aperitivo ma nella pagina che abbiamo dedicato con l'articolo sui topinambur che trovate su greypanthers.it trovate anche una eccellente facile frittata da fare rapidamente con i topinambur e invece una preparazione che nobilita la povertà del topinambur con dei bocconcini di astice. Vi abbiamo ingolosito? Beh allora buon appetito! Senior News termina qui, grazie per averci seguito, arrivederci a domani!